Chissà se hanno cambiato da ricerca e ci mette di meno magari questa volta Immagino che hanno lavorato un po' Boh Ci ha sempre messo un'infinità Te l'ho detto Ah ecco Credo Vediamo se ce li ricordiamo Questo era quello coi topi Sopra c'era quello con la molotov mi sa Dall'altra parte Qui giù no? Ancora Aiuto Che cazzo Stava prendendo un massaggio alla scala No Ok Cioè tu sei salita mentre lui scendeva Esatto Dove stai? Oddio Oh Viscio Ah sopra c'erano quelli col veleno Qua nascosti Oh cavolo Non morire eh T'ho visto male T'ho visto male Per te con l'uomo col sacco Sì Stava sotto il ponte Ah Non lo vedo Ah aspetta però Sono comprato la lanterna Ah Eccolo Dall'altra parte Dall'altra parte prima mi sa Comunque sono Molto meno resistenti Gli uomini del sacco Il sacco Dei labirinti del calice Beh sì Lo finiscono Stai subito Beh dovrebbe essere intorno Al trentesimo Credo questo Oh Muffa tombale Eh basta Ah no C'è un oggetto laggiù Ehm No Ok Chi Che c'era? Lo scheletro gigante C'era? 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 Oddio speriamo Aspetta Adesso che mi ci fai pensare Ma ce l'ho un'altra arma Perché questa è già in fu... Sì c'ho il tonritus Ok Non lo so perché mi son curato O Attenta, attenta, attenta Eeeh No dai, facile facile Ok, ah Sì, adesso ritorno Eccoti Attenta la trappola Ok Eeeh, dov'era? No, c'è un oggetto là dietro Ma qua sotto non c'era pure un altro passaggio Mi confondo Chi è? Ah Ma questo è venuto diretto? No Speriamo che questo No Aiuto Ma ce l'hai ancora il video dove mi dà una culata in faccia? Ah, peccato Aspetta Ci sono un po' di Cioè non ho preso niente Non so se effettivamente C'è qualcosa da prendere Attenta a sinistra e ci sono i due No Io l'ho mancato Tutte e due Ma non c'è niente Neeeh Ceste Nulla di nulla Ma Mi sa che ci manca una parte Questa No Quella Eh Mi sa che mica l'abbiamo fatta Intenta che quello seduto E' una finta Trappola Trappola Foraccio Cioè o meglio Se lo merita Adesso mi sa che Eppure ero convinto che qua sotto Perché ce ne stanno altre Che stanno Per questo Le piave Ci sono Di C'è Ok No Le lanterne Blu Che stanno Che stanno Aspetta Ah cavolo Oddio questo è odioso Ah ok questi quelli che danno Il calice casuale Ti aspetto giù Il calice Iscio Ah oddio No No Non sono riuscito a rotolare Cavolo Si comunque Mi sa che è meglio togliere prima Quella con la lampana Che brutta morte Ho tentato di andargli alle spalle Ma gli sono rotolato addosso Stato stupendo Comunque L'abito di cascogna Non ha neanche i guanti C'è il tipo delle bende E' Oh cavolo Ok togliamo questi col cannone Au Allora mi sembra Se ricordo bene Che qua sotto C'è uno di quelli col sacco Poi ci sono Quelli che gentilmente Sparano palle di fuoco Ecco nella 1 Ah ecco quello col sacco Ah mi sembra che C'era anche una creaturina Qua sotto vero No mi sa che sta sotto Eccola la vedo No io voglio la creaturina Ok Oh chi è Ma C'è quello si è fermato E mi ha lanciato un pugnale Così proprio Come se niente Ciao Tieni Questo pugnale Ah si si Me lo ricordo E' quello che mi ha ucciso prima Ho rotolato Ma non ho rotolato Abbastanza Che l'hai uccisa Ah grazie No Tu non puoi C'era anche un bastardo Qua sopra Che lanciava le molotov Da qualche parte Che caolo C'è Senti ma Ce l'hanno con me Sono entrato Quello mi ha lanciato Una molotov in faccia Oh Un po' di muffa Tombale Questa Due spaghetti Proprio E' ottima No no Infatti Questo era veleno No 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 Comunque si Infatti Spaghetti Un fa Tombale Da paura Ehm Non c'era Ah eh Mi ricordavo 12 proiettili Ah Aspettami Vedi c'è Ah Anche se Alla fine Conviene non farli Perché non erano Gli attacchi Questi qua Viscerali Che facevano Comparire Quelle 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 specie Di donne Ragno Mi sembra di sì No 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 Sono bravissimo Sono famoso Per la mia capacità Di schivare Gli oggetti In movimento C'è C'è una porta Comunque Come fai a schivare Il gioco Termi Ma chi Mi passi Accanto Ah si Ok Ma No no Aspetta 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 Siamo sicuri Che era Tutto qua Porta di là Sopra c'era Un passaggio solo Ah giusto E uno è da dove Siamo arrivati E allora sì Niente Sotto Nello stanzone No Sì Nello stanzone Quello Dove abbiamo Affrontato Ah Eccoti Ti ve Sto dietro di te Ah forse C'è la parte Opzionale Direi di si C'è qualcuno Qua dietro Ah 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 Ehm... Boh Altra moffa tombale Bella scorpacciata stasera Secondo me è anche una bella bruschetta Un po' di muffa tombale Cos'è? C'è anche il solito lanciatore di cortelli dietro la vittoria Ah, in là si cade Oh, era giusto? No Sangue rituale 2 Niente di che Ah, sì, vogliamo scendere da qua? Ah, io non vedo nessuno Neceste... niente Trappola Ok Veniamo da sotto noi, no? No? Sì? No Da sopra Controllo Tante volte ci sono... no Ehm... Ah, abbiamo visto tutto? C'era solo una porta, no? Sì Ok Secondo me è qua che c'è... Il secuggio di fuoco Sì, mi sa che è il post finale Da una macchina Sì Qua Direi proprio di sì Direi proprio di sì Ah, cavolo Ah... Ah... Sì, eh Eh, ho tentato di andretteggiare, ma... Attenta, attenta, attenta Eh, bastardo Eh, 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 si è arrabbiato No Eee Perfetto Torno indietro Così Ti do una mano No No Grazie.